Poracci bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi. Oggi discuteremo dei festeggiamenti per il Mario Day, dell'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, del vero remake di Diamante e Perla e non solo. Come al solito, prima di iniziare vi invito a supportare il canale come meglio credete, con un like, attivando la campanella delle porotifiche e seguendomi su tutti gli altri social, altrimenti ci sono i caffè virtuali su Ko-fi. Lo sapevate che un caffè equivale a un memmino in HD? Pazzesco! Partiamo con qualche notizia al volo. Molti di voi infatti sapranno che era stato liccato un imminente aggiornamento del firmware di Nintendo Switch. Ora sappiamo cosa aspettarci dalla patch 11.4.0. Ovviamente nulla di che. L'update era stato intercettato da un bot su Twitter e gli utenti hanno subito iniziato a volare con la fantasia. Chi sperava nell'aggiunta delle cartelle? Chi nella personalizzazione dei temi? E invece, a breve, ci ritroveremo con un semplice update di stabilità che andrà ad aggiornare la lista nera delle parole non consentite su Switch. Insomma, non aspettatevi nulla di che. Inoltre vi ricordo che ci avviciniamo sempre di più all'uscita di Monster Hunter Rise su Switch e Nintendo sta puntando parecchio su questo titolo. Tanto che la demo apparsa qualche tempo fa su eShop farà il suo ritorno questo venerdì in una versione aggiornata che permetterà di prendere parte alle stesse cacce di prima risettando il numero di tentativi disponibili oltre a una nuova missione quella relativa a Magna Malo o Magna Male per noi romani. Fossi in voi, non me la lascerei sfuggire. Bene, poracci, iniziamo con le notizie corpose. Che giorno è oggi? Beh, il 10 marzo. Giornata conosciuta come il Mario Day. La data dove si festeggia lì con Nintendo. Mario, marzo, dieci, io, Mario. Divertentissimo. E cos'ha in serbo Nintendo per questo evento importante? Un bel niente, almeno per noi europei. Sì, insomma, Nintendo ci sta prendendo gusto e dopo aver lisciato clamorosamente il 35esimo anniversario di Zelda, facendolo passare nel silenzio più totale, anche per Mario non si sta comportando nel migliore dei modi. Se non altro, in questo caso la grande N si è ricordata della ricorrenza tramite dei post social e qualche evento a tema minore, come su Mario Kart Tour, il racing game per cellulare e un easter egg su Google Maps. Tutto qui? Beh, non proprio. Infatti è partita anche una corposa campagna di sconti per i giochi con protagonista l'idraulico italiano, un evento più unico che raro, visto che i grandi nomi Nintendo difficilmente vengono toccati da promozioni e saldi. Peccato che questa iniziativa sia limitata al Nord America e noi europei non siamo minimamente presi in considerazione, una scelta abbastanza deludente. Ma attenzione ragazzi perché proprio mentre registravo è uscita la notizia dove sostanzialmente anche noi in Italia avremo dei sconti mal limitati. Saranno infatti disponibili da domani Super Mario Maker 2 e Paper Mario di Origami King scontati del 35%. Non la stessa cosa che accade in Nord America ma sempre meglio di niente. Oltre al danno anche la beffa, visto che Nintendo Japan ci ricorda sui social che questo mese vedrà la morte di Mario e con esso la sparizione di parecchi titoli pensati per il suo 35esimo anniversario. Tra i tanti Nintendo ci tiene a precisare che Super Mario 35 non sarà più giocabile dal primo aprile anche se scaricato nella console. Che dire, un bel modo di festeggiare Nintendo? Complimenti! Passiamo ora al vero terremoto che ha scosso il mondo dei videogiochi perché l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft è stata finalizzata. L'affare costato alla casa di Redmond la bellezza di 7,5 miliardi di dollari? La sciocchezza! Cambierà di netto gli equilibri del mercato? Vediamo come! Le mire espansionistiche di Microsoft l'hanno portata a finalizzare forse una delle più grandi acquisizioni di sempre e se già negli ultimi anni eravamo stati abituati a vedere importanti aggiunte di studi più o meno indipendenti all'interno dell'Xbox Game Studios, con quest'ultima mossa alla famiglia Xbox si aggiungono con un colpo solo ben otto importantissime software house, tra cui Arkane, ID Software, Bethesda e Machine Games. Phil Spencer ha ufficializzato l'acquisto con un post sul sito di Xbox dove spiega, anche se in modo un po' vago, quali saranno le prossime mosse dell'azienda. Come è lecito aspettarsi l'obiettivo è quello di far diventare il Game Pass la piattaforma di riferimento per il gaming su console e non solo e già dai prossimi giorni ci saranno massicce aggiunte al catalogo del servizio in abbonamento. Non si tratterà di titoli che diventeranno esclusive dell'ecosistema Xbox sarà solo molto più facile giocarli su Game Pass piuttosto che acquistarli singolarmente. Per il futuro però sono previste esclusive di peso e tra i nomi più gettonati c'è la possibilità di vedere l'attesissimo Starfield divenire un titolo solo per Xbox. Un annuncio del genere è probabile venga comunicato nei dintorni delle 3, mentre tutti i rumor sembrano puntare ad una presentazione per domani pomeriggio per quanto riguarda i primi effetti di questa acquisizione. Cosa ne pensate di questo passaggio epocale? E per chiudere Poracci vi voglio lasciare con una notizia un po' particolare. Infatti si è molto parlato dei remake di Diamante e Perla e della ricezione un po' titubante da parte della community Pokémon. Se siete tra quelli che si immaginavano diversamente l'arrivo di questi attesissimi remake vi consiglio di guardare questo video fan made. Una delle critiche di cui più abbiamo discusso nel video dedicato è che molti avrebbero preferito uno stile grafico reminescente di quanto visto su Spada e Scudo. Lo stile Chibi, oltre a non sembrare particolarmente ispirato, ha lasciato molti perplessi perché sembra un po' un passo indietro rispetto al 3D visto nei giochi di ottava generazione. In molti si sono chiesti quindi come sarebbero stati Diamante e Lucente e Perla Splendente se avessero sposato quest'altro stile grafico e la risposta è arrivata, quasi in tempo record, da un fan della serie. L'utente Millennium Loops ha caricato un concept trailer dalla qualità spettacolare, se si pensa appunto che si tratta di un progetto amatoriale partorito in poco più di due settimane, che interpreta alla perfezione i desideri dei fan. Ve lo dico, secondo me il trailer è tanto bello quanto un po' triste perché dà un assaggio di quello che non vedremo mai. Sono comunque molto curioso di sapere cosa ne pensate e che sentimenti vi scatena vedere una produzione del genere. E per chiudere commentiamo i risultati del sondaggione, non del giorno ma della settimana scorsa. Vi ho domandato cosa ne pensate proprio del prezzo dei remake di quarta generazione e gran parte di voi è convinto che il costo sia spropositato rispetto a quanto offerto. Mi trovate abbastanza d'accordo ma come al solito vi invito alla calma. Non sappiamo ancora quanti e quali nuovi contenuti presenteranno diamante e perla. E poi il prezzo potrebbe essere semplicemente un placeholder sparato in alto, in attesa di conferme da parte di Nintendo e magari anche di un ribasso. Nell'attesa di vederci chiaro vi voglio carichi per il sondaggione che andrà online tra poco. Promesso. E questo poracci era tutto per oggi. Come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti. Mi raccomando i like, le porotifiche, il follow sui social e anche i caffè virtuali, importantissimi. Detto questo vi do appuntamento al prossimo video. Io sono il poro Mario, Michele Betesda. Ciao! Poracci bentornati! Poracci bentornati!